ariete qualcosa che avete fatto del tutto inconsapevolmente potrebbe diventare per molti un pretesto per attaccarvi sappiate difendere toro non avete nessuna voglia di ripetere un'esperienza che già in passato non si è dimostrata affatto piacevole cederete volentieri il posto a qualcun altro gemelli dovrete far ricorso a tutta la vostra esperienza personale per riuscire a superare una situazione difficile non prendete le cose alla leggera cancro è probabile che la vostra pazienza sia messa a dura prova da quelle persone che batteranno la fiacca costringendovi a fare tutto da soli leone nella vostra vita sta per succedere qualcosa di nuovo ma attenzione a non restarne talmente affascinati da trascurare altre questioni che vi stanno a cuore vergine giornata ideale per rilassarsi un po ma anche per occuparvi di un paio di incombenze che soltanto voi sapete come svolgere bilancia qualcuno sta tentando di entrare in contatto con voi ma non riesce a trovare il modo per farlo siate gentili prendete voi l'iniziativa scorpione un libero e sincero scambio di informazioni sarà essenziale per il successo delle vostre iniziative e vi consentirà di progredire su molti fronti sagittario sarà importante comportarsi in maniera sempre opportuna in base alle circostanze e alle persone che vi stanno attorno capricorno potreste sentirvi piuttosto disincantati riguarda qualcosa che soltanto ieri vi aveva entusiasmati siete stati precipitosi nel giudicare acquario è probabile che dovrete essere voi a fare in modo che tutto sia in ordine per consentire a qualcuno di procedere nel suo lavoro pesci dovrete cercare di affrontare una situazione in attesa potrà esservi utile un'esperienza fatta l'anno scorso in questo periodo